Ventiseiesima domenica del tempo ordinario. Nella prima lettura ascoltiamo il caso di due anziani del popolo di Israele che, eletti per essere profeti, debbono però, per indisposizione, restare nelle loro tende e iniziano a profetizzare esattamente lì dove stanno. Ma il testo ci narra della reazione zelante di Giosuè, il servitore di Mosè, che è ancora giovane, forte e feroce come un giovane sa essere, difende l'esclusività della profezia, difende la regolarità dello svolgimento della profezia e si lamenta e dice che il suo padrone, il suo maestro, Mosè, deve impedire. Ecco, il tema dell'impedire qualcosa perché non è nello schema, non è dentro il ricinto dell'organizzazione, della struttura. Mosè risponde in una maniera straordinaria. Ma sei tu geloso per me? Ecco, la gelosia, questo essere tendenti a difendere l'esclusività delle cose, questo zelo che porta a non guardare ciò che conta, ma a guardare l'appartenenza, l'identificazione, questa faziosità di fondo che sembra giustizia. Mosè dice, sei tu geloso per me? Ma fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Potessero profetizzare tutti nella tenda, fuori della tenda, sopra, sotto, di qua e di là, potessero tutti avere lo Spirito del Signore. Questo testo fa da preludio al Vangelo che narra di una reazione zelante e degli stessi discepoli di Gesù, che hanno visto un tizio che scaccia demoni nel nome di Cristo eppure vogliono impedirlo, perché non è dei loro, non è dei nostri, non ci segue dei nostri, essere dei nostri. La cosa più importante è l'appartenenza, non la sostanza del discorso. Scacciare demoni non è così importante. La cosa più importante è se abbiamo l'imprimatur o meno di una certa appartenenza. Ecco, questo tipo di realtà è tanto, tanto frequente. laddove le cose diventano molto più importanti per la loro caratterizzazione faziosa piuttosto che per la loro sostanza, come stavamo dicendo. Gesù dice, non glielo impedite, non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e possa parlare male di me, subito dopo aver fatto questo. Ovvero sia, chi non è contro di noi è per noi. Ovvero sia, si tratta di iniziare a capire la logica del Regno dei Cieli. Se il nostro Signore non avesse una logica inclusiva, nessuno di noi si potrebbe salvare. Se il Regno dei Cieli non fosse qualcosa che tende ad accogliere, tende a convocare, tende a valorizzare, a vedere il bene e a prendere tutti coloro che vogliano avvicinarsi, che vogliano avere accesso ad esso stesso, al Regno stesso, beh, nessuno di noi si potrebbe salvare, c'è poco da fare. E però è incurioso perché c'è una contrapposizione fra la prima parte del testo e la seconda parte del testo. In primo luogo si vede questo fatto di includere, questo fatto di vedere il bene. Ma andiamo alla sostanza, guardiamo cosa sta facendo questo uomo, sta facendo del bene. Infatti, chi vi darà da bere anche solo un bicchier d'acqua nel mio nome, non perderà la sua ricompensa. Avrà parte con noi, è dei nostri, già per questo stesso atto di servizio. Però appare nella seconda parte del testo uno di quei testi radicali, evangelici, così anche seri, che noi leggiamo con tremore. Se la tua mano ti ha motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella genna. E se il tuo piede ti ha motivo di scandalo, taglialo. E se il tuo occhio ti ha motivo di scandalo, gettalo via. Perché queste parole così dure? Perché piuttosto che escludere un fratello, tagliati una mano. Piuttosto che non dare accesso alla salvezza a un piccolo che si apre a credere nel regno dei cieli, tagliati un piede, togliti un occhio. Ecco, questa è la logica essenziale. È una logica per cui quel che conta sono i fratelli, non le appartenenze. Quel che conta è la comunione. Quel che conta molto più delle etichette, delle definizioni precise, è ciò che ci permette di essere uniti. Quando la ragione diventa più importante della comunione, la nostra vita prende una bruttissima china. Quando diventa più importante la questione di principio che la questione della vita, allora noi abbiamo una vita sottomessa alle astrazioni, ai concetti, ai principi e abbiamo una vita che non sorge dalla vita, ma sorge da una cosa secca e fredda come un'idea. Abbiamo bisogno infatti di considerare anche collateralmente che per amore della comunione ci si taglia un piede appunto. Ma questo vuol dire anche una cosa. Se consideriamo questa frase, è meglio per tentare nella vita con un piede solo, con un occhio solo, con una mano sola, vuol dire che spesso capita, e non è così assurdo, che nella vita bisogna entrare per mezzo di una circoncisione. Come nell'ebraismo si entra nella alleanza per mezzo del taglio di una parte intima, così c'è un pezzo del nostro cuore, c'è un pezzo delle nostre azioni, la mano, c'è un pezzo della nostra mentalità, l'occhio, c'è un pezzo dei nostri percorsi, dei nostri sentieri, il piede, che non sono compatibili con la comunione. Quelli vanno tagliati. E questo vuol dire che nella vita ci si entra sempre, in certo senso, un po' zoppi, orbi, monchi. Cioè si vede l'attitudine della comunione, dall'attitudine della rinuncia a ciò che in sé è contro la contrapposizione. Questo fa sanguinare talvolta, perché è la perdita dell'esclusività, che è questo dramma della auto-identificazione per differenziamento, questo delirio della propria auto-affermazione per esclusione di qualcuno, che ci permette la cerchia esclusiva, il gruppo peculiare, la tendenza all'elitarismo, che è in tutti gli ambiti e anche all'interno del cristianesimo. Ecco, questa domenica ci invita a tagliare dentro di noi, non fuori di noi, e a accettare questa logica. In noi c'è sempre una concupiscenza tendente all'elitarismo, all'esclusività, alle classifiche, al migliore, al peggiore, all'essere noi contro di voi. Ecco, siamo cattolici, siamo universali, noi siamo tendenzialmente inclusivi nella verità, nell'amore, nella logica sana e buona, senza perdere il senso delle cose che vanno anche distinte fra ciò che è vero e ciò che è falso, ma tendenza sempre all'inclusività, all'accoglienza. La comunione è molto più importante della ragione.